Un giorno, orsani al figlio di Davide, orsani al Redentor, e molto estirato di dolcezza, e un ruolo d'amor s'avvicinare, si offre il cuore il viso e il dono a chiore il cuore. Un giorno, orsani al figlio di Davide, orsani al Redentor, orsani al figlio di Davide, orsani al Redentor, e un ruolo d'amor s'avvicinare, ma non è un ruolo d'amor s'avvicinare, e un ruolo d'amor s'avvicinare,